Avionews ha avuto l'occasione di intervistare Enzo Veciarelli, da pochi giorni capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. A lui abbiamo rivolto alcune domande. Generale Veciarelli, quale contributo l'Aeronautica Militare dà contro il terrorismo internazionale? L'Aeronautica Militare, quale una delle forze armate, si colloca nell'ambito più ampio della difesa o salvaguardia degli interessi nazionali del Paese e quindi cerca con i suoi uomini, con le professionalità che ognuno di loro riesce a sviluppare, a garantire quel regime di sicurezza per tutti i nostri cittadini. Lo fa in particolar modo con una funzione specifica che è devoluta all'Aeronautica Militare, la difesa aerea e tramite la difesa aerea, quindi il controllo dei cieli, riuscire a dare questo ombrello di copertura a tutti i cittadini del Paese. Qual è il rapporto dell'Aeronautica Militare invece con l'Enac, con l'ente civile, dal punto di vista collaborativo e anche legislativo? La collaborazione con l'Enac è sempre aperta trattando di questioni afferenti all'attività di volo, in particolare oggi è molto di attualità la problematica degli APR, ovvero dei velivoli a pilotaggio remoto, ci stiamo affacciando a questa nuova era dell'aviazione e c'è bisogno insieme di definire la normativa, le regole del volo di questi velivoli che possono essere, come ben sa, di diverso peso, di diversa capacità operativa. E quindi è proprio con l'Enac che stiamo tentando di individuare delle norme comuni che poi possono essere anche adottate a livello europeo e internazionale. Un'ultima domanda, se vuole, riguarda l'armamento dei Predator. È un evento importante per l'Aeronautica Militare questa disponibilità da parte degli Stati Uniti all'autorizzazione degli armamenti dei Predator? È qualcosa ancora in divenire, certamente faciliterebbe le soluzioni operative del caso, qualora la componente governativa dovesse ritenere di impiegare l'Aeronautica in missioni antiterrorismo, certamente comporterebbe un contributo significativo all'operatività del sistema. Grazie, Generale. Grazie.